Buongiorno, oggi la redazione di dossiersalute.com si trova nuovamente a Torino e si trova nello studio del professor Stefano Bruschi, direttore della scuola di specialità di chirurgia plastica. Attualmente gli interventi più comuni oggi si concentrano in due distretti anatomici, il volto e la regione mammaria. Bene, quindi a tal punto vorremmo parlare con lei della mastoplastica addittiva. Seppur banale, professore, che cos'è la mastoplastica addittiva? Allora, quello che viene richiesto moltissimo a livello della chirurgia della mammella è l'addittiva mammaria. L'addittiva mammaria sostanzialmente prevede l'aumento di volume della mammella. Ma non ti devi concentrare solo e semplicemente sul volume, ma anche sulla forma del seno. Ecco che noi siamo leader, noi chirurghi plastici italiani, leader nella scelta anche delle protesi, perché utilizziamo quello che viene mediaticamente detto protesi di ultima generazione, noi le utilizziamo da più di 25 anni, dal 93, non avendo avuto delle limitazioni nell'utilizzo di queste protesi. Per cui l'addittiva mammaria oggi è una chirurgia molto sofisticata e meditata in funzione della scelta delle protesi. Detto questo, non dobbiamo però trarci in inganno quando uno dice lei usa le protesi anatomiche di ultima generazione o le protesi rotonde. E allora questo perché? Perché il termine protesi rotonda svia mediaticamente la percezione della protesi, sembra che uno usi un palloncino. Viceversa non è così, perché anche le protesi rotonde sono semisferiche e questo lo devi dire al paziente. Poi la protesi anatomica in una paziente che non ha parenchima mammaria è chiaro che è la scelta più giusta perché dà quella forma, diciamo così, più anatomica, più reale, più naturale. Ma puoi usare anche le protesi cosiddette rotonde, specialmente in pazienti che comunque hanno già un seno rappresentato ma vogliano un ulteriore aumento di volume. E relativamente invece al post intervento? Il post intervento è agevole. Noi parliamo molto di chirurgia invasiva. Tutta la chirurgia può essere etichettata invasiva ma è molto importante come la chirurgia viene eseguita. Quindi chi ha una dimestichezza e anche una manualità di intervento più spiccato ecco che l'intervento diventa di fatto meno invasivo.